Hanno scassinato la porta antipanico che dà sul giardino, poi una volta all'interno hanno iniziato a rovistare un po' ovunque. Quello che hanno trovato però non è stato di loro gradimento, come le decine di computer presenti nell'aula di informatica. Ad accorgersi del tentato furto alla scuola elementare Decioraggi in via della Pineta, Fano è stata questa mattina l'operatrice scolastica. I ladri questa notte hanno fatto visita alla scuola? Sì, io questa mattina sono entrata dalla porta principale e ho visto che c'erano tutte le carte in terra. Allora a quel punto non sono entrata, ho telefonato, ho chiamato subito al segretario Tarini, che lui è venuto subito, è arrivato. Dopo abbiamo fatto tutto il giro della scuola e abbiamo visto che cosa era successo. Poi in attesa dei carabinieri i bambini sono stati fatti attendere nell'atrio durante il giro di perlustrazione e si sono accorti che anche la cassaforte era stata forzata con un cacciavite e che una finestra della classe terza era spalancata, probabilmente la via di fuga dei ladri. La cassaforte non sono riuscite ad aprirla, hanno tentato di scassinarla però non ci sono riusciti. Hanno solo buttato in terra tutte le carte. Hanno rilasciato soltanto danni? Sì, hanno lasciato soltanto danni.